E allora buongiorno, buongiorno, iscrivetevi tutti, mi raccomando condividete questo video con tutti i tifosi dell'Inter, iscrivetevi che sono fomentato come una sgommata e mi farò devastante portavoce di tutti quelli che la pensano come me. Guardate il video fatto stamattina sulle alternative a Lukaku in cui vado a sentenziare, signori, sentenziare sul fare calcio, quello sulle Olimpiadi, domani petiamo, petiamo i populisti, i populisti sulla questione Messi, Settio e via dicendo, ci sarà il Valeriani, ci sarà la live col Gigione lunedì, quindi che cazzo vi devo dire, iscrivetevi e fate iscrivervi perché questo è il foro, il foro del fare calcio. Ho fatto una live devastante, sono intervenuto dal buon Fabio Beraco, mi è andato a recuperarla, ma signori, ormai è fatta Lukaku e il Chelsea per 115 milioni e qui dobbiamo toglierci parecchie feci dalle scarpe, parecchie feci dalle scarpe. Allora, innanzitutto, zappatismo, signori, tutti altri nei commenti, zappatismo, zappatismo puro, zappatismo, io voglio Duvan, Zappat all'Inter e la maglietta, e la maglietta, vi ricordo che se uno dei cinque che vi ho detto arriva all'Inter, maglietta, perché me la si deve da mesi, però io voglio, io voglio zappatismo, datemi dello zappatismo, datemi dello zappatismo, datemi dello zappatismo. Partiamo con lo storytelling, capito, su Lukaku, il re di Milano, Lukaku, Romelu, Resta, Romelu, per sempre l'Inter, avete visto? Avete visto? Ha spinto per andare, non voleva neanche giocare l'amichevole, signori, ha spinto per andare, ha spinto per andare. Due anni di storytelling su Lukaku, storytelling tipo Yogi e Bubu, lui e Lautaro, sembrava dovessero stare assieme vent'anni, Mario, vent'anni di storytelling allo primo sbandamento, primo offerto, per carità ha fatto bene, perché so soldi, cioè gli danno una barca di soldi, non che all'Inter ne prendesse pochi, perché 8 milioni, voglio dire. 8 milioni se uno poi fa il confronto con la resa, che per carità, Scudetto, ci sta niente da dire, sebbene che comunque sia avvenuto in condizioni particolari. Oh, ma il fenomeno, signori, l'attaccante più forte del mondo, due anni di fila fuori i gironi, due anni di fila fuori i gironi e quando la partita contava, ciaone, ciaone o peggio male, tipo col Siviglia, con la notte, il Sivigliazzo, il Sivigliazzo, ve lo ricordate? L'Inter ha fatto benissimo accederlo, un plauso a Steven Zhang, ha fatto benissimo accederlo a Lukaku e se arriva Zapata e Zapata sta bene, l'Inter non si indebolisce, sia mai, cara grazie, che dopo due anni si supera un girone di Champions. Guardate, il Pangasio quest'anno ha una sua fissità, perché comunque è anche territoriale, le due romane con Mourinho e Sarri e le nordestine con Udinese, Venezia e Verona, no? Però, 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 non se parla di un Inter che se mi caccia Zapata e via dicendo, comunque il Pangasio è aperto, sebbene quest'anno sia duro, vi ripeto, anche per questioni territoriali e via dicendo, comunque l'Inter è una squadra che seguirei in ogni caso E quindi attenzione, signore, attenzione, 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 che io da uno Zapata all'Inter sono fomentato, state tranquilli che non avete perso il fuoriclasse, che vi dicono Conte, Lukaku deve baciare Conte dove cammina, gli ha costruito una comfort zone perfetta, ok? Il 3-5-2 per lui, se lo metti in un 4-2-2-3-1 c'è da fare il segno della croce Voglio vederlo ad avere a che fare con la punta, quando ci sono grandi partite sparisce, sempre lì a fare scenate nei derby, nelle partite che contano Perché le sente, perché le sente, perché le sente, perché a mio avviso sente il fatto di essere criticato per i controlli, per le situazioni in cui non è perfetto Ottimo giocatore, per carità di Dio, nessuno dice che sia scarso, ma non è il fenomeno che tutti ci hanno dipinto per due anni E non è soprattutto questa situazione di storytelling che ci hanno fatto sorbire per due anni sull'attaccamento Lukaku, Romelu, Uresta, avete visto, dato via, meglio uno Zappata, Zappatismo, voglio la maglia di Duvan Zappata, me la merito Dopo due anni, dopo due anni io vi dico, se l'Inter supera il girone di Champions con Duvan Zappata, facciamo una live notturna, ok? Con playlist Pitbull, playlist di Pitbull, nuovo inno dell'Inter, se arriva Duvan Zappata, hotel room di Pitbull, ok? Su Instagram voglio un bombing di foto di Zappata con hotel room, va bene? Mi taggate, e mi taggate su Instagram, oltre a seguirmi Fomento, Lukaku, buon viaggio, l'Inter torna a casa, signore, torna l'Inter, torna l'Inter, torna l'Inter, sono fomentato Chi osa per i tifosi della Fiorentina? Non guardo l'amichevole di stasera perché è su Team Vision E io non so cosa sia Team Vision, so cos'è One Vision dei Queen, ve la canto anche One Vision, quella so, ma Team Vision non so cosa sia Quindi non posso vederla, ci sentiremo per la Fiorentina Lukaku, ciao, spiazze, spiazze, ciao